Ed eccoci di nuovo noi, gli M4 Crazy Family, ma questa volta solo in due. Ci siamo concessi in questi giorni di libertà prenatalizia visitare Mantua per fare l'esperienza del dormire in camper in inverno, che è la cosa che ci preoccupa perché siamo totalmente inesperti. Adesso vi posterò la strada che facciamo, vi metterò un pochino di foto e di video di quello che vediamo, ma soprattutto vi parlerò della nostra gelida nottata. Allora, dopo più o meno due ore di viaggio siamo arrivati all'agriturismo... Beatilla. Beatilla a Mantua. Abbiamo iniziato ad accendere la nostra super stufetta e la stufa. Vediamo se si scalda l'ambiente. Adesso capiamo, visto che sono le 6 del pomeriggio, capiamo se andare a Mantua a farci un giro già stasera oppure passare direttamente a domani. Ecco la nostra postazione per questa sera, non si vede niente perché è buio, ma qui c'è la reception del Beatilla. Siamo in un agriturismo. Niente ragazzi, alla fine si è deciso che rimarremo qui stasera, io e lui, lui e Dio, senza neanche un DVD, un gioco in scatola, le carte, niente, no, dobbiamo capire come passare il tempo. Io lo so com'è. Perché abbiamo constatato che le luci dietro del camper non vanno. Non ci sembra il caso di andare in giro totalmente al buio, perciò dobbiamo aspettare che faccia giorno, perché qui il taxi costa la bellezza di 40 euro. Fare 12 km. Esatto, cioè 40 euro in totale. Perciò abbiamo deciso di rimanere qui e attendere l'alba di un nuovo giorno. Per l'occasione dell'essere soli soletti ho preparato un outfit veramente speciale. Sei contento? Sì, molto. Questo è il nostro super copertone. Ikea. E niente, vi faremo sapere. Bene ragazzi, siamo in partenza, dopo una notte un po' così e così, perché ha bevuto molto, però tutto sommato è andato tutto bene. La cosa che temevamo di più era il freddo, e il freddo invece non l'abbiamo sentito per niente. Le nostre coperte erano talmente pesanti che bastavano quelle. Appena ci siamo svegliati abbiamo riacceso la nostra stufetta elettrica, quindi abbiamo passato tutta la notte senza stufa e ieri sera invece fino alle 23.30 con la stufetta elettrica accesa per risparmiare un po' di gas. Ci stiamo andando a Mantua. Eccoci, siamo arrivati, abbiamo parcheggiato il nostro bolide ed ora ci aspetta una lunga camminata verso il centro della città. ragazzi, ovviamente uscire in pieno Covid non è il massimo perché stiamo trovando tutto chiuso, però stiamo facendo lo stesso giro. Nel giardino del pallone ora, si chiama così. Ora siamo nel palazzo Ducale e nel giardino. Del pallone. Allora, siamo arrivati fino qui, fino al palazzo Tè, però ovviamente è chiuso anche questo. Come si dice? Piuttosto che niente è meglio piuttosto. Noi continuiamo. Il Pasquale del Grande Fratello. La nostra gita, guardando tutto, ammirando tutto, ma da fuori. Siamo riusciti ad entrare solo in un paio di chiese durante la messa e basta. Siamo riusciti ad entrare solo in un paio di chiese durante la messa e basta. Vai! 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 Su! Ma che cadi, dai! Sali! Me ne vado, eh! Vai! Vai! Sali! Uuh! Uuuuh! Dai! Dove va? Guarda che hai sbagliato strada! vieni qui vai vai diventi molle muoviti molle dai guarda Mesner quando arrivi in alto di lepissima è tempo di tornare a casa dopo lunghe e lunghe camminate oggi in quel di Mantova ora andiamo a prendere i nostri bimbi spero che il video vi piaccia anche se non siamo potuti entrare nei vari confetti è fatto un bel giretto è stato un tempo bellissimo c'era un metro un po' di pioggia ma vabbè non ci ferma niente noi e il nostro amico camperino alt perché vi facciamo vedere come si fa lo scarico delle acque grigie delle nere allora ci siamo fermati in autostrada nell'aria sosta e adesso vi facciamo vedere da questa maniglia effettuiamo lo scarico delle acque grigie che è poca roba è poca roba perché siamo stati lì a poco per le nere invece abbiamo questa bellissima cassettina che adesso ma però la chiave mai c'è Marco vi farà vedere ho mai trovato la prima colpa trovata la chiave vai ok questa è la cassettina che verrà svuotata vi abbiamo risparmiato la visuale però qui è stato effettuato lo scarico delle acque nere abbiamo poi lavato la vaschetta con dell'acqua svuotata qui ed ora siamo pronti per ripartire torniamo a casa spero vi sia piaciuto il video alla prossima ciao